La problematica legata all'acqua è estremamente grave. Il tracciato della galleria di Valico passa a quota inferiore a quella dell'alveo del torrente a Lembe. Ora questo non vuol dire che necessariamente il torrente potrebbe sparire, ma è una delle analisi che dobbiamo fare prima. Ma dobbiamo sapere se potrebbe succedere qualche cosa. Nel progetto definitivo non vi è traccia di tutto questo. Vai, vai, cammina pure, parla pure. Un'altra delle argomentazioni su cui poniamo dubbi è quella del deposito di smarino nell'ex Cava Cementier. Innanzitutto non si riesce a sapere quale sia veramente la quantità di materiale scavato che verrà depositato nell'ex Cava. I tecnici Cociv a voltaggio hanno parlato un pochino di 1.200.000 metri cubi, poi di 1.600.000. Ovviamente se dalla medesima fonte giungono notizie diverse, la tendibilità è veramente scarsa. Siamo in un sito di interesse comunitario, tutto questo non viene preso minimamente in considerazione e soprattutto la vicinanza del torrente a Leme potrebbe creare qualche problema. Infatti il deposito andrebbe a lambire proprio l'alvio del torrente. Perfetto, grazie mille e buona manifestazione. Arrivederci. Ciao.